Dal 3 giugno al 3 agosto prossimi torna la tradizionale rassegna estiva promossa dall'Università di Catania Porte Aperte Unict, giunta alla sesta edizione dopo due anni di interruzione dovuti alla pandemia. Il cartellone prevede 45 appuntamenti per revalorizzare le sedi universitarie e consentire all'ampia platea della comunità accademica di aprirsi alla città con spettacoli teatrali, concerti, proiezioni, incontri, mostre e visite guidate in 12 location dell'Ateneo. Tra i tanti eventi culturali e artistici c'è anche una mostra su Sant'Agata. Sì, che è una mostra che abbiamo inaugurato già mesi fa e che riproporremo, riapriremo in occasione del 21 giugno della Festa Europea della Musica quindi sarà visitabile, come sarà visitabile anche il Museo delle Mirabilia e come saranno visitabili anche le nostre sedi. Ci saranno appunto anche le consuete visite guidate al Monastero dei Benedettini, organizzate da officine culturali e quindi un'occasione per ripopolare e per conoscere i nostri spazi. La manifestazione quest'anno è stata realizzata con il patrocinio del Comune di Catania, dell'Erso e con la collaborazione della Scuola Superiore. Questo servizio è offerto da Ottica Mannino, Pia Sebastiano Catania, numero 257. Qualità, competenze e cortesia a un prezzo contenuto. Controllo della vista è gratuito. E chiedi il coupon sulla WhatsApp Line in sovraimpressione e avrai la montatura in omaggio se acquisti un paio d'occhiali completo. Nel cuore storico di Catania, il CAF Playa di Buio Giuseppe offre l'assistenza e la preparazione che cerchi e servizi davvero gratuiti. Per la vostra comunicazione e pubblicità aziendale contattateci al 338 37 922 71.